musica 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 Ciao a tutti ragazzi ricordiamo questo video e oggi ragazzi vediamo questo un po' super crazy con il pad come se non avete visto e oggi ragazzi siamo voli a oppo tali di golem ma 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 Allora Mi sono messo a costruire, aspetta vedere che a livello 12, che ricasse a livello da oggi, tipo la tata. un altro scatto allora no perdono questo è a livello questo è a livello questo è il 9 questo è il 9 non c'è ragazzi che scopo indietro perchè è il 9 questo è il 2 il 3 questo è il 11 questo è il 12 questo è il 5 questo è il 10 il 10 sono tutti a livello massimo E' facile di sfuggere, vedrete, mi garantisco di no E' un po' figo Tutto ciò, ho intenzione di attaccare un lavoro Beh, intanto vi faccio vedere il mio replay che ho fatto al passato Allora, l'ho messo qui nell'angolino dove c'è questa Tesla qui che ho più coi***e Ho messo dei bombatori Con questi qua, maghi e barbari, li ho messi qua per distruggermi, questa zona qua Però io ho questa bomba qua, non l'avevo vista questa bomba Perciò per me è l'artificio Qua ho messo una furia Poi qua ho messo un'altra E poi con un'altra ancora Però il drago è morto subito Perciò perciò Tutto il replay Diciamo E' un'altra cosa Non ci vorrò mai Così che bello di conflituire qua ma magari dopo continuate a farlo per dopo Lo so no What the rock is cooking